Carissimi giovani del mondo, vi saluto veramente con affetto e amicizia. Sono consapevole che la nostra vita è stata colpita duramente dalla pandemia in corso e che è cambiata notevolmente. Abbiamo una proposta per voi, per la vostra mente, il vostro cuore e questa, con il tema Mosi dalla speranza, vogliamo realizzare questo Don Bosco Global Youth Film Festival, un grande festival di cinema giovanile e per i giovani di tutto il mondo. Voi, cari giovani, siete gli architetti del futuro, segno di speranza e noi riponiamo grande fiducia in tutti voi e con voi vogliamo sognare e costruire un domani migliore. Con la vostra creatività potete veramente aiutare a cambiare il mondo. Vi invito, venite e partecipate in questo festival di cortometraggi. Questo vuole essere il vostro festival. Venite e muoviamo il mondo con la speranza. Sono sicuro che Don Bosco, amico di tutti i giovani del mondo, è felice con questa iniziativa per voi giovani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.